Bene, fino adesso abbiamo visto come realizzare supporti visivi, è il momento ora di vedere come utilizzarli quando stiamo effettivamente presentando e voglio iniziare con un aspetto in parte già toccato nella logistica, cioè la disposizione dei supporti visivi e di noi all'interno del locale. Idealmente il presentatore dovrebbe essere al centro del palco, non sempre questo è possibile, in particolar modo magari in una sala di unioni come questa dove lo spazio è più piccolo e succede che i supporti visivi siano in centro, magari il proiettore è lì. Ovviamente stare al centro vuol dire impallare lo schermo, vuol dire avere la luce addosso, non è la soluzione ideale. In questo caso dobbiamo spostarci di lato, possiamo stare a sinistra o a destra rispetto al pubblico. Idealmente in genere è meglio stare a sinistra perché in questo modo quando io indico qualcosa sullo schermo punto verso l'inizio, magari di una frase, noi in occidente leggiamo da sinistra.